Primo appuntamento del 2014 con Benvenuta Impresa, il format promosso da Camera di Commercio di Milano per presentare i suoi servizi in settori specifici di attività. Questa volta il focus è sull'internazionalizzazione, fattore strategico di successo in uno scenario dove alla crescita dei nuovi mercati si accompagna una riduzione progressiva del peso sull'economia globale dei mercati tradizionali. Se vediamo l'evoluzione dei mercati nei prossimi anni vedremo che l'area dell'euro è destinata comunque a diminuire in termini di importanza all'interno del commercio internazionale e a scapito ovviamente dei paesi emergenti. Allora quello che è importante è riuscire con le attività della Camera di Commercio di Milano ad aiutare le nostre imprese ad essere più competitive e a guardare con maggiore fiducia sui mercati emergenti. Per tutte le imprese partecipanti orientamento gratuito sui servizi specialistici in ambito internazionale offerti dalla Camera e dalle sue aziende speciali e la possibilità di conoscere da vicino i dettagli del nuovo bando voucher che mette a disposizione delle PMI fino a 12.000 euro in un anno per attività di internazionalizzazione. Il bando voucher è un bando dedicato alle piccole e medie imprese lombarde sono contributi a fondo perduto che coprono sostanzialmente tre attività la partecipazione a fiere internazionali, la partecipazione a missioni imprenditoriali quindi ricerca di partner all'estero e infine il servizio di assistenza specialistica che serve comunque sempre per ricercare un partner per sviluppare delle attività all'estero.